Amore? Amore? Sono a casa? Sei qui? Amore? Devo parlare di una cosa figa? Amore? Amore, eccoti. Ascolta, ho preso due giorni di ferie perché ti volevo portare a Firenze, sabato 21 luglio. E ci facciamo un giretto, ci mangiamo una cosa e poi la sera ci facciamo un bel concertino allo stadio. Allora, cosa ne pensi? Lo sapevo. Vado a comprare i biglietti. Firenze Oh yeah Oh yeah Your heart lost and burned and saved Amore scusa Mi presti la carta di credito perché la mia è completamente vuota Poi te li ridò Grazie